ma eri iniziato me a mo ti devo mettere no non mi devi eh non è lo stesso studio vedi che mostro grigi è cambiato è cambiato marroni che cazzo sono estremo vieni qua aspetta arrivo sto guardando qui c'è un dado aspetta un secondo aspetta un secondo qua che cosa c'è la sopra ma maestro ci devi arrivare con i pezzi che trovi in giro vedi qui un dado è così trovato vieni qua vai qua dietro guarda che cosa ma non posso andare di qui ma dove mi è messo come non posso andare c'è un buco per forza qualcosa deve stare ma non c'è un buco non posso tirami fuori oh è strano ma c'è una fessura nel muro forca madonna scusa oh ma portiamoceli un dado vabbè portiamo un dado qua c'è un addirittura ah dobbiamo fare lo scalone c'è anche 3 c'è un altro mega dado in questo dado eh aspetta puttana ok big dado semi big dado vabbè ma non ce ne servono 3 ma come fai a farli così grossi? eh basta che mi riverso l'alto e me lo fa a me non diventa così grosso eh ma perché Gianco dipende dalla grandezza di partenza e se non ce l'hai troppo grosso è difficile che diventi ancora più grosso qui maestro guarda c'è un cartello l'exit è qui bisogna sfondarla col dado ecco spingimi ebbene una testata una co eccolo io eccolo vai sto qua prendimi prendimi facile anche questo chiavato maestro dimmi ma secondo me non dovevamo entrare Gianco rivieni qua ti posso riprendere no maestro scoperto che cosa hai scoperto? torna indietro e dove sto indietro? guarda ho spostato un cubo e c'era un buco ah vabbè sdrogheggio estremo oddio tiralo ma vedi dobbiamo arrivare a quella botola maestro no no dobbiamo creare un parkour vedi se c'è qualcosa là maestro penso che la soluzione sia tirare tutte le cose Gianco ma raccoglimi eh soluzione porco dio bro l'ho smontato ma qui c'è un giga cubo maestro ma si è aperto guarda dobbiamo entrarci aspettami oh sono arrivati qua no 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 raccoglimi ti ringrazio dove andà? dove stai? è nella porta vedi si è aperto l'ascensore ma non è per tornare indietro questo no oh c'è il casino road closed dice beh vai comunque in fondo è cambiata la stanza ma è tutto dritto qui ci sono delle bombole oh del sangue vero no che è che ha chiuso? tu hai chiuso no no chiuso non si può aprire questa porta ci sono solo piante oh il corridoio qua tutto dritto sono diventate le backrooms oh comunque è veramente figo sto gioco oh oh non andare qua oh guarda ci aveva quasi fregato qui c'è un trabattello maestro vai 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 c'è un percorso maestro ma ce la fai? nooo e pensavo di farti spaventare che c'era la sagoma ma non si è caricato che cazzo c'è l'ascensore maestro è andata gigante adesso la radio si sta moltiplicando adesso sta facendo un casino della madonna facile allora click destroy per espiristinare che vuol dire? da sto destro mi sono spariti è vero allora dobbiamo spostare questa mela maestro in un qualche modo la mela ci blocca la porta come abbiamo fatto a spostarla? con un'altra mela facile però sicuramente succede qualcosa se ma grazie per gli undici maestro dobbiamo portare un qualcosa qui su ah no Gianco non puoi entrare sai che posso entrare? no dove sei? non è entrato guarda indietro perché non posso entrare? ma dobbiamo risolverlo senza far così Gianco vuoi sapere come funziona? la mela cade e cadendo ti apre questa porta ma non è vero è ovvio dai ma adesso dobbiamo portare una mela qui su fatto come hai fatto? guarda vieni qui una schizzato su? no era una cacata dovevi farlo da qua esatto e la mela si copia qui vabbè tanto era sdrogo te l'ho detto potevamo passare un cartello ovviamente è real facile Gianco facile una porta una malissima porta lavati pezzo di merda no dai no 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 porca di dai non posso uscire vai me cos'è questo coso? un castello una porta dentro maestro bisogna farlo più grosso maestro ancora più grosso? aspetta aspetta oh come vuoi? dobbiamo usare questo per salire qui e poi entrare qua dentro esatto aspetta che lo faccio il giga dalla rampa fanno giga aspetta lo sto girando porco dio ok ok così perfetto prendimi no prendimi prendimi ecco calma calma ti prendo subito qui lo schiavizza di real marza lo punisce beh c'è stata ho fatto uno hello kyle wise one no 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 Grazie a tutti.